La nostra regione è interessata marginalmente da un promontorio subtropicale con la sua roccaforte che al momento è ubicata sulla penisola iberica. Tuttavia la compressione dell'aria verso i bassi strati e i venti di caduta in discesa dall'appennino determinano condizioni di tempo stabile ed ampiamente soleggiato con temperature ben al di sopra della media stagionale. Nel corso di questo fine settimana l'alta pressione evolverà verso Levante interessandoci più direttamente con conseguente ulteriore aumento delle temperature ed un'attenuazione del vento. Andrà dunque a delinearsi una configurazione barica tipica delle ondate di calore che si verificano in piena estate. Il tutto è ben evidenziato sulla cartina prevista per le ore centrali di sabato 21 maggio dove possiamo apprezzare il robusto campo di alta pressione che invade il bacino del Mediterraneo costringendo il getto delle correnti atlantiche di scorrere ben a nord delle Alpi. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo weekend. Sabato 21 maggio condizioni di cielo sereno poco nuvoloso ovunque salvo lo sviluppo di modeste nubi cumuliformi lungo la dorsale appenninica. Temperature in aumento soprattutto nei valori massimi. Venti deboli di direzione variabile con brezze lungo la costa nelle ore centrali della giornata. Mare quasi calmo con lieve aumento del moto ondoso nel corso del pomeriggio. Domenica 22 cielo generalmente sereno poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata. Temperature in ulteriore aumento con massime intorno ai 30 gradi centigradi nelle aree dell'entroterra. Ventilazione assente con leggere brezze lungo la costa e mare calmo. Nei primi giorni della prossima settimana avremo un'accentuazione del caldo a causa del ripiegamento verso Levante del promontorio africano. Una manovra barica indotta dalla spinta verso sud-est delle correnti nord-atlantiche le quali nei giorni successivi piloteranno una depressione verso il Mediterraneo centro-occidentale. Dunque tra lunedì 23 e mercoledì 25 potremo assistere a condizioni di caldo intenso con umidità via via crescente e dunque il caldo diverrebbe a foso mentre da giovedì 26 la situazione potrebbe cambiare radicalmente. Questo perché il contrasto tra l'aria fredda in arrivo dal nord atlantico e quella calda e umida presente sul Mediterraneo sarà netto e questo andrebbe ad instabilizzare notevolmente la colonna d'aria con conseguente formazioni di nubi a sviluppo verticale. La fenomenologia associata potrebbe risultare di forte intensità con temporali violenti. Ipotesi questa da non trascurare al momento però non è dato di sapere dove potrebbero abbattersi i fenomeni più intensi ma è bene prendere in considerazione questa eventualità e soprattutto seguire i prossimi aggiornamenti che come sempre verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it e sul gruppo facebook Meteo Cilento. Termino qui un buon fine settimana da Giuseppe Stabile. Grazie a tutti.